Concordato ETR era l'una e dieci quando Antonio Bianchi insieme a Giovanni Petrollini e all'avvocato Franco Di Ciommo, il professore universitario incaricato di firmare la richiesta, sono arrivati al tribunale di Isernia giusto 20 minuti prima della chiusura della cancelleria e della scadenza dei termini. Una corsa contro il tempo che è servita a completare e perfezionare il piano industriale che sarà la parte fondante della richiesta di accesso al concordato in continuità. Nei bustoni in cui erano contenuti i dossier sul piano, le speranze e il futuro stesso non solo di un'azienda, l'ITR, ma di centinaia di dipendenti e fasonisti che da 30 anni vivono grazie alle risorse distribuite sul territorio dall'industria tessile molisana. Con la presentazione del piano si formalizza così la quarta possibile vita dell'ITR, dopo la stagione di Tonino Perna, quella dei commissari e poi la gestione di Antonio Bianchi. Se il concordato verrà accettato dal giudice e approvato dal comitato dei creditori, si andrà verso una nuova stagione, ma vediamo nei particolari. La vecchia società andrà in liquidazione, verrà nominato un liquidatore che dovrà gestire il recupero crediti e chiusura delle vecchie pendenze con dipendenti, fornitori e fasonisti. Dalla vecchia società cessata e finita in liquidazione, definita bad company, nascerà la nuova ITR, una new company che finirà sul mercato a disposizione dei nuovi acquirenti. Una manifestazione di interesse c'è già stata, da parte di un fondo di Milano, quotato in borsa, che già ha salvato la filatura botto di Biella. Quindi non si tratta certamente di avventuriere, anzi di una società abbastanza accreditata. E' altrettanto chiaro che l'offerta del fondo è vincolata all'accettazione del concordato da parte del tribunale e del comitato dei creditori. Quindi per ora è del tutto prematuro parlare della nuova vita dell'ITR, che ci sarà solo se tutte le caselle andranno al loro posto. Infatti, e non è escluso del tutto, prima il giudice Battista e poi il comitato dei creditori potrebbero anche bocciare il concordato. Quindi ora non resta che aspettare, incrociando le dita, perché il fallimento dell'ITR potrebbe essere ancora possibile, anche se c'è comunque un piano B ed è quello di una nuova richiesta per l'applicazione della legge Marzano, quella che fece arrivare a Pettoranello i commissari Chimenti, Spada e Ciccoli.